Musica Caro Babbo Natale, per quest'anno volevamo chiederti di aiutarci a concretizzare un nostro sogno, quello di avere un porto funzionale. Inizia così la lettera scritta dai componenti del Comitato del Porto di Gela che si sono rivolti provocatoriamente a Santa Claus, visto che la politica non riesce a risolvere problemi, spiegano, e considerato che la burocrazia li è grava con i suoi ritardi. Lo scalo marittimo in questione, il piccolo portorifugio inogibile da anni a causa dell'insebbiamento dei fondali, è mai riattivato malgrado venga utilizzato dai pescatori, dai mezzi marittimi a sostegno dell'attività portuale e del petrolchimico di Gela e dalle imbarcazioni da di porto. La soluzione che sembrava vicina ha trovato altri intoppi. In questo caso dovrebbe intervenire la politica locale e regionale? Ma soprattutto a questo punto dovrebbe intervenire quella regionale, perché parliamo del Ministero dell'Ambiente di Roma, quindi dovrebbero sbirgarsi a farci avere finalmente queste autorizzazioni per poter continuare i lavori al porto. Più volte tavoli, incontri, riunioni, però dato di fatto oggettivo, momento attuale che nulla si è sbloccato. E questo è quello che ci fa rabbia, capisco che la politica ci dà un po' di retta dicendo che si fa, però i tempi sono materialmente lunghi, troppo lunghi e lendi. Ma cosa potrebbe portare un porto fruibile per l'intera collettività? Un porto fruibile per l'intera collettività potrebbe portare tanto turismo, perché nei porti arriva il turismo, è il cuore dell'economia il porto per una città. Gela senza porto è una città senza economia, come vediamo. Ma quando voi vedete il porto di Marina di Ragusa e il porto di Licata, provate invidia? È normale che proviamo invidia. Prima eravamo noi quelli a comandare dal punto di vista anche di portismo, oggi invece è Licata, Marina di Ragusa e Scoglitti che fanno padroni. In questo caso un appello che vogliamo rivolgere al Presidente della Regione Crocetta? Io l'unico appello che rivolgo a Crocetta, al Presidente, è quello di sbrigarsi, darsi semplicemente una mossa velocemente, perché siamo già morti tutti. Comandante, bilancio di fine anno per le attività del 2016, quali sono i dati che emergono maggiormente? Il dato che emerge maggiormente è di una città che sta vivendo un momento di crisi, che però da un'altra parte c'è un grande fervore dal punto di vista economico e di società che cercano in qualche modo di affermarsi sul mercato. Ovviamente il dato che le posso dare io è un dato che fa più riferimento a quelle che sono le violazioni del codice. Ma devo essere sincero, a parte situazioni dove effettivamente vengono rinvenuti irregolarità pesanti, come possono essere le fatture false, che ormai sono diventate un late motive di qualsiasi tipo di verifica fiscale, non è stato individuato un nuovo filone particolare. Per i dati conclusivi aspettiamo che il Comando Generale, come ogni anno, faccia il suo libro dei risultati del 2016. Guardiamo già il 2017 con particolare attenzione a quelli che possono essere i connubi fra pubblica amministrazione e criminalità organizzata, perché ovviamente ci siamo resi conto che il nuovo strumento da attenzionare è quando la politica si affaccia al mondo dell'imprenditoria e viceversa, creando dei connubi che effettivamente possono in qualche modo andare a creare della concorrenza sleale nel mercato e di conseguenza andare a pilotare degli episodi che creano delle distorsioni di quelle che sono la normale concorrenza. Mi dà lo spunto per farle un'ulteriore domanda. Tra le indagini più importanti di questo 2016, quali ricorderemo? Purtroppo non posso ancora parlarvi, sapete che ci sono diverse indagini in corso, spero che i primi mesi del 2017 potranno dare un esito a questa attività. Lavoriamo, lavoriamo tanto, siamo poco presenti sui giornali perché la nostra attività va a tutelare quella che è anche la dignità del contribuente, nel senso che molte delle nostre attività possono andare a ledere l'immagine del contribuente, che non è una cattiva persona di per sé perché magari sbagli nella gestione dell'azienda. Semplicemente potrebbe essere un errore contabile come potrebbe essere un artificio, qualcosa di voluto, ma questo non deve in qualche modo andare a inficiare anche la sua sfera personale. Di conseguenza lo statuto del contribuente ci intima, e noi siamo ben felici di farlo, di adottare un approccio soft con questo tipo di attività. Di conseguenza ancora non possiamo ovviamente venirvi a raccontare tutto quello che facciamo, ma la città è controllata da questo punto di vista, ve lo posso assicurare. Franco Iudici sta per chiudersi un altro anno, un anno difficile per l'edilizia, più volte voi come sindacati avete lanciato l'allarme che purtroppo la crisi è galoppante, ma al momento attuale purtroppo non è accaduto nulla, anzi è una crisi che aumenta. Si aumenta soprattutto nel nostro territorio, non solo la crisi non si attenua, ma nell'ultimo periodo abbiamo perso ancora posci di lavoro, si sono persi in provincia di Caltanissetta 500 posci di lavoro nell'ultimo semestre, noi lo vediamo tramite le evitazioni che si fanno in Cassedile. Per cui se la politica in questo territorio non riesce a capire cosa vuole fare per svilupparlo e cercare di implementare le gare d'appalto che sono scese in modo spaventoso, visto che la Regione Sicilia e il Governo nazionale ci hanno messo a disposizione i fondi della comunità europea, se non riusciamo a sbloccare questo nel giro di poco tempo il nostro territorio diventerà un vero e proprio deserto. Voi avete definito il vostro settore, quello dell'edilizia, una vera e propria barca che sta galleggiando, ma che purtroppo sta andando alla deriva. Eh sì, l'abbiamo definito proprio così perché è così, perché se voi fate un giro in città o nel territorio non si vede più un cantiere edile, non si vede più un'opera, non c'è più nulla. Vediamo solo la disperazione delle famiglie che non riescono più ad arrivare non solo alla fine del mese, ma nemmeno ad iniziare la settimana. Non riescono a fare fronte a quelli che sono i bisogni e le necessità per la propria famiglia, per i propri figli, per cui c'è una vera e propria disperazione. E quali sono le prospettive per l'anno nuovo? Le prospettive potrebbero essere buone, però ci vuole proprio volontà. Le prospettive sono quelle che alla raffineria iniziano e avvinano i processi di bonifica, l'impianto nuovo che si deve fare, la biorraffineria e tutto quello che è previsto nel protocollo di indesa si è segnato nel 2014. Poi per quanto riguarda le altre cose, lo dicevo poc'anzi, ci vuole una vera e propria forza di volontà nell'avviare le opere, di guardare i progetti perché i soldi, i fondi ci sono, non riesco a capire perché. Si preferisce lasciare collassare una città e non avviare immediatamente le opere pubbliche. Agevolare i medici nella loro attività e offrire ai cittadini servizi online, evitando loro lunghe file d'attesa. Con questo intento l'ASP di Caltanissetta ha ampliato il sito istituzionale offrendo nuovi servizi. Da oggi, infatti, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta potranno accedere a servizi online nell'apposita area loro dedicata sul sito www.asp.cl.it. Un nuovo sistema grazie al quale i medici, oltre a tenere aggiornati i propri orari di ambulatorio e rendere note altre informazioni all'utenza, potranno gestire la campagna vaccinale di screening, oltre che prenotare prestazioni ambulatoriali. In fase avanzata anche l'iter per permettere lo scambio di referti quando disponibili agli utenti. Al momento sono già disponibili online i servizi per i cittadini di richiesta a cambio medico e rilascio di esenzione per reddito e a breve sarà possibile effettuare online la prenotazione e pagare i ticket. Oggi presentiamo le nuove possibilità che stiamo attivando per poter rendere un servizio più adeguato sia a chi opera nel settore della sanità, in questo caso specifico per i medici di medicina generale, e per i pediatri di libera scelta. Però questo sito sarà utilizzato anche dai cittadini. Che cosa stiamo presentando oggi? La prima cosa che stiamo presentando è la possibilità per i medici di medicina generale di accedere al sito e avere il loro cedolino, poter eventualmente pulire le liste dei pazienti che hanno in carico e segnalare eventuali errori e quindi allineare tutta la loro attività per quanto riguarda la connessione con l'azienda. Attraverso il sito, in un prossimo futuro, e abbiamo già uno scadenzario, noi attiveremo la possibilità da parte dei cittadini di poter anche prenotare quelle che sono le prestazioni che dovranno effettuare, quindi gestire la loro prestazione, pagare i ticket e utilizzare tutti i servizi dell'azienda. Questo tutto attraverso uno smartphone, un telefonino che adesso oggi è di uso comune per tutti. Quindi questo tipo di attività che avevamo già annunciato, da oggi si parte e a mano a mano che noi andremo ad attivare i vari servizi e i vari settori, noi ne daremo comunicazione. C'è anche un altro servizio importante che oggi metteremo in campo è quello di poter comunicare direttamente con tutti i medici di medicina generale o attraverso un SMS o attraverso una mail per comunicare quelli che sono i passaggi oppure particolari novità. Tutti assieme appassionatamente il centrodestra Gera ieri sera si è riunito nei locali dell'hotel Sileno per fare il punto sulle incomprensioni che si sono registrate nel tempo al fine di appienarle e per programmare il futuro. Presenti tra gli altri i vertici locali di Forza Italia, un'altra Gera, Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale. Un incontro è stato ribadito propedeutico per una nuova e definitiva rinascita del centrodestra in città. Il nostro gruppo con Pepe, Ditavi e Russo non ha la presunzione di dire noi siamo il centrodestra, noi siamo un gruppo che vorrebbe aggregare tanta gente e vedere un centrodestra unito. La cosa non è molto semplice perché partiamo da vecchie ruggine che ci sono state nella vecchia campagna elettorale del Consiglio Comunale. Ciasera sono stati invitati i consiglieri di Forza Italia, però nessuno è venuto. Nessuna preclusione per nessuno. Noi vorremmo dialogare con tutti, compreso l'onorevole Federico e tutti quanti sono vicini a lui, a tutto il centrodestra. Noi dobbiamo creare delle idee. Ciasera per ora abbiamo gettato le basi e speriamo che i risultati piano piano vengano. Lei parlava di Federico, però Federico non era presente questa sera. Sì, Federico non è venuto, però ci saranno altre occasioni. Io mi dovrò incontrare con lui nei prossimi giorni, parleremo un po' a 360 gradi di quali sono le problematiche del centrodestra e della città. Costruire un programma condiviso che deve presentare una vera alternativa al centro-sinistra è competitiva contro i 5 stelle. Si tratta dell'obiettivo primario. Noi ci stiamo cercando di organizzare per essere alternativi a questa amministrazione e a tutte le amministrazioni che hanno preceduto questa, cioè i 20 anni di amministrazione di sinistra. Noi abbiamo le personalità, abbiamo le dirigenze, abbiamo le risorse per poter essere uomini di governo, sono uomini che riusciremo a fare bene per l'amministrazione di questa città e abbiamo la voglia di lasciare consegno positivo ai nostri figli in questa città. Certamente si voterà per le regionali, non è escluso, anzi è molto probabile che si vote pure per le elezioni politiche. Io sono uno di quelli che lavora già da tempo per creare le condizioni, per sfiduciare questo sindaco e questa amministrazione perché, come tutti sappiamo, è un sindaco delegittimato, messo fuori dal suo movimento che lo ha eletto, non ha una maggioranza in Consiglio Comunale, non risponde a nessuno, è scollegato con la politica nazionale e regionale e quindi, come la città sta vivendo un momento drammatico, un momento come non mai difficile, credo che responsabilmente tutti abbiamo il dovere di mandare via prima possibile questi signori e ricreare le condizioni di una nuova classe dirigente e una nuova classe politica che potrà pensare al futuro di questa città perché ad oggi non è sicuramente messa bene. Si chiude tra le incertezze il 2016 per i dipendenti dell'ex provincia di Caltanissetta e i lavoratori della Caltanissetta Service che non sanno cosa aspettarsi con l'inizio del nuovo anno. Sembrerebbe infatti che delle risorse straordinarie stanziate dalla regione Sicilia per le città metropolitane e per i liberi consorsi di comuni, ammontanti a circa 24 milioni di euro, a Caltanissetta non arriverà nulla. A lanciare il grido di allarme ancora una volta il segretario generale della funzione pubblica della CISL, Gianfranco Di Maria, che preoccupato delle prospettive future per i lavoratori e della continuità dei servizi erogati dall'ex provincia, torna ancora una volta a chiedere un incontro all'assessore regionale Gianluca Miccichè e agli onorevoli Giuseppe Arancio, Giancarlo Cancelleri e Pino Federico. Incontro che era stato chiesto prima delle festività natalizie. Con la legge numero 24 del 7 dicembre di quest'anno, il governo regionale ha assegnato a tutte le ex province, quindi ai liberi consorsi e alle città metropolitane, circa 24 milioni di euro, più precisamente 23 milioni e 900 mila euro. La ripartizione di queste somme dovrà avvenire a secondo del disequilibrio di ciascun ente. Correvoce, quindi la famosa voce di corridoio, che alla provincia di Caltanissetta non sarà assegnato nulla. Ecco, questo è un appello, un grido di allarme che io ho lanciato, io nella qualità chiaramente, ho lanciato alla politica locale, alla deputazione di questo territorio. Non sarebbe giusto, non sarebbe possibile e chiaramente discriminatorio ove ciò avvenisse, cioè ove Caltanissetta fosse dimenticata da questo contributo che serve alla Caltanissetta Service e ai dipendenti della provincia a tempo indeterminato. Torno a chiedere un incontro urgente prima che venga fatto il decreto assessoriale di assegnazione delle somme. Mi spiace che nessuno abbia raccolto questo grido di allarme. Mi auguro che ciò sia dovuto alla invondatezza della notizia, ma se non dovesse essere così, per noi potrebbero essere tempi ancora più tristi di quelli che abbiamo trascorsi. Fai la cosa giusta, mantieni il decoro urbano della nostra città. Oggi domenica, dalle 22 alle 5, depositare davanti alla propria abitazione l'organico all'interno del sacchetto compostabile. Cosa conferire? Avanzi di cibo, piccoli ossi, scarti di cucina di frutta e di verdura, formaggi e salumi, avanze di pane, alimenti avariati e scaduti, fonde di caffè, filtri di tè e camomilla, sfalci, piccole potature, fiori recisi e piante domestiche senza terra e senza vaso, pezzetti di legno, paglia, segatura, ceneri spente di camini, tovaglioli di carta unti, carta assorbente usata, escrementi, piume, peli e lettiere di piccoli animali domestici. Un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto. Generi di prima necessità da devolvere alle famiglie bisognose di Gela li hanno donati questa mattina alcuni imprenditori e commercianti gelesi nell'ambito della quarta edizione consecutiva della stella di solidarietà promossa dalla associazione anti-racket Gatano Giordano. Un'iniziativa programmata da tempo, tutto è stato fatto in maniera sobria e in segno di rispetto nei confronti della famiglia Trenito colpita dalla tragedia familiare di martedì scorso. La manifestazione si svolge nella sala conferenza della stessa associazione in corso Vittorio Emanuele. I nostri imprenditori, i nostri commercianti rispondono alla grande come tutti gli anni. Speriamo di superare il record di due anni fa che c'è stata quasi con una raccolta di 10.000 euro di prodotti alimentari. Quest'anno cercheremo di attenzionare maggiormente i bambini quindi è un consiglio che do a tutti i cittadini di portare il penzerino soprattutto anche che sono genzati, i pannolini. Queste sono le richieste che stanno facendo le associazioni che ci stanno collaborando oggi. Quindi io ringrazio già fin da ora sia voi giornalisti per l'interesse che state avendo nei nostri comprondi ma tutti i cittadini, tutti i nostri commercianti, imprenditori che stanno rispondendo alla grande e sto vedendo che sta avvenendo di tutto e di più. All'iniziativa hanno aderito le parrocchie San Domenico Savio, il Santa Lucia e le associazioni Giara Famiglia, il Tempio di Apollo e il CAV, centro di aiuto alla vita. I gelesi veramente sono molto solidari anche se ci sono questi momenti che sta attraversando la nostra città vedo che veramente la città sta rispondendo. Io voglio ringraziare l'antiracket nella persona del signor Caponetta ma anche tutti i commercianti, tutte le famiglie che aiuteranno le altre famiglie che in questo momento vivono momenti difficili. Un momento difficile però da superare. Certo, se siamo insieme le cose si superano più facilmente. Noi speriamo con questa giornata che molti rispondano all'invito fatto dall'antiracket ma anche da noi associazioni e da alcune parrocchie. Abbiamo avuto una grande affluenza di gente che ha collaborato e ha risposto immediatamente non solo all'appello dell'associazione antiracket ma anche delle associazioni gelesi. Questo è il quarto anno consecutivo. I gelesi sono sempre stati solidali, sempre stati attenti e presenti alle necessità della città. Noi li ringraziamo e li aspettiamo per tutta la giornata. Voi raccogliete e poi distribuite? Sì, saremo noi stessi a distribuire alle famiglie che già serviamo da diversi anni e già stamattina dobbiamo dire che molte famiglie si sono iscritte nella nostra lista. Chiudere l'anno sindacale è una reale utopia e tale resterà in considerazione delle tante vertenze in corso. Una provincia che continua a contare 270.000 abitanti che resiste alla crisi in grado di non vedere cancellate tutte le conquiste sociali che nei decenni sono maturate. Nel contempo è inutile nasconderlo. La provincia di Caltanissetta continua a non avere l'adeguata attenzione da parte di chi può e deve decidere le sorti delle due più grandi aree industriali. Caltanissetta gela per nulla sicure, sempre più poveri di servizi agli insediati e sempre più con capannoni vuoti. E quanto dicono i segretari generali di Cigelle Cisle Will, Ignazio Giudice, Emanuele Gallo e Maurizio Castania. Se dovessimo stilare una gradatoria, dicono, la provincia Nissena risulterebbe la più ingannata d'Italia, nella misura in cui ogni settimana qualcuno dei politici che contano si alza e annuncia finanziamenti per le infrastrutture materiali ed immateriali, per la sanità pubblica, così da pesare meno nella triste voce di bilancio mobilità sanitaria, per qualità degli edifici pubblici scolastici, per opportunità lavorativa in linea con gli studi e o qualifiche professionali conseguiti. Cigelle Cisle Will hanno accennato la resistenza degli abitanti rispetto ad un declino che si respira in ogni comune dei 22 che compongono la provincia, con una esposizione dei sindaci e degli amministratori tutti che non ha presidenza nella storia democratica istituzionale. Non abbiamo scelto di diffondere il documento politico di fine anno, continuano, perché abbiamo un obbligo legato a qualche protocollo, ma perché avvertiamo la necessità e l'urgenza di ribadire l'allarme povertà e spopolamento presente in tutti i comuni. Da dove arriva l'inganno? Da troppe parole vuote e svuotate nel significato sociale originario, invecchiate senza aver visto nascere l'oggetto degli annunci. Un esempio su tutti riguarda il destino dei miliardi del contratto d'aria, del patto per l'agricoltura, di tutta l'idea della programmazione negoziata che doveva far vivere un nuovo e sano protagonismo imprenditoriale e invece ha generato macchie nel deserto, capannoni senza alcun perché, se non quello di giustificare la spesa senza produrre occupazione. Le sigle sindacali continuano a rivendicare il ruolo dello Stato ed è per questa ragione che l'interlocuzione con il prefetto di Caltanissetta, Maria Teresa Cucinotta, risulta per le forze sindacali utile, preziosa, puntuale per tutte le vertenze che investono il mondo del lavoro e con esso quello economico ed istituzionale. Se è vero che tutto si lega e ancora di più i fattori positivi devono essere preservati, CGL, CISLE e UIL tengono a ricordare che il loro no alla paventata soppressione della Corte d'Appello è convinto e determinato. La qualità della vita dei cittadini dipende dalla solidità dei trasferimenti finanziari di Stato e Regione ai Comuni, ma dipende anche da come i sindaci si adoperano per evitare il collasso dei servizi alla persona, dalla riflessione scolastica al trasporto locale, all'assistenza agli anziani ed inabili. La resistenza dei cittadini di tutta la provincia riguarda anche la persistenza dell'organizzazione mafiosa che in modo silenzioso cerca di determinare scelte e affari e le operazioni antimafia registrate nel corso dell'anno ne danno ampia dimostrazione. Le sigle sindacali chiedono agli antipubblici ad iniziare dall'Inps un potenziamento dell'organico nei servizi di sostegno al reddito così da evitare la disperazione di interi nuclei familiari e lo studio congiunto di uno nuovo protocollo di legalità che eviti parole da libro dei sogni e contenga misure da realizzare immediatamente. Garantita la prosecuzione dei servizi erogati dal centro di diagnosi e trattamento intensivo precoce dello spettro autistico e dal centro diurno per l'Alzheimer. Oltre quelli previsti dal Piano Sanitario Nazionale quali la riabilitazione nei reparti cosiddetti critici che rischiavano di essere interrotti a causa della scadenza, il 31 dicembre, dei contratti degli operatori sanitari. Contratti Coco Pro non più rinnovabili, così come previsto dal Jobs Act. Una corsa contro il tempo, quella avviata dalla direzione strategica dell'ASP grazie alla collaborazione di tutti gli uffici per garantire la prosecuzione dei servizi rientranti tra i LEA, ovvero i livelli essenziali di assistenza, che ha portato alla stipula di 59 contratti. È stata un'impresa veramente ardua. Hanno lavorato 19 commissioni, quindi 72 dipendenti, indotto più tutta l'organizzazione dell'azienda, le segreterie, i protocolli, perché abbiamo avuto circa 1700 domande. Sono stati selezionati i migliori e siamo sicuri di poter garantire questo servizio per tutto il 2017. Nel frattempo vedremo se riusciremo a far inserire questo personale nel contesto della pianta organica definitiva e quindi rendere più stabile il servizio. Oggi è una bella giornata, perché 59 persone avranno la possibilità di lavorare nel 2017. È una bella giornata perché sto verificando l'efficienza della nostra azienda che ha raggiunto dei livelli di attività che sono veramente invidiabili. Questa attività importantissima per l'azienda è stata da noi presa in grandissima considerazione anche al supporto tecnico che ci è stato fornito dall'assessorato della salute. Fa parte di un contesto dove noi abbiamo garantito la possibilità a 59 lavoratori di lavorare intensamente all'interno dell'azienda così come fa parte del contesto dell'azienda la possibilità di avere prorogato anche gli LSU e di avere prorogato tutti i contratti a tempo determinato per mantenere i livelli essenziali. Un sospiro di sollievo non solo per i lavoratori ma anche per le tante famiglie degli assistiti in attesa che si istituzionalizzino i servizi. Grazie a tutti i nostri spettatori